Onorevole Rotelli. Grazie Presidente, intanto volevo rassicurare l'ingegner Danzi salutandolo che la verve della nostra Presidente e delle altre colleghe non è data dalla data particolare dell'8 marzo, ma sono sempre così. Hanno questo tipo di piglio e di contenuti e anche questa modalità in giornate che non sono così celebrative perché loro sono sempre donne degne di non soltanto rispetto, attenzione, contenuti e capacità politica e amministrativa. Questo è il mio augurio per quanto riguarda l'8 marzo. Può continuare? Posso continuare, è vero a lungo, mi immaginavo Presidente. Invece le volevo dire, ingegnere, che nel primo libro del Signore degli Anelli, esattamente nel primo capitolo, anzi il primo capitolo, si apre con un titolo che è Una festa a lungo attesa. Inizia proprio così la Compagnia dell'Anello, uno dei tre libri della trilogia. Ebbene, la sua è proprio un'audizione a lungo attesa da questa Commissione e senza fare l'elenco, come ha fatto il collega poco fa, delle domande che già le sono state poste, Se ne dico che questa Commissione, che non ha avuto realmente mai un approccio di carattere titolologico, figuriamoci, su tematiche di questo tipo, ha però la sensazione di essere una controparte, in una specie di giudizio nel quale da una parte ci sono i rappresentanti del popolo, i deputati parlamentari, dall'altra parte c'è il Ministero con la motorizzazione. E quindi qui proviamo a dare delle indicazioni, delle idee, a proporre degli emendamenti, a fare degli ordini del giorno, a inserire delle idee all'interno di quelle che possono essere i vari provvedimenti importanti, abbiamo citato il mille proroghe, le finanziarie, per andare a migliorare una serie di procedimenti, ma ogni volta, come sottolineato benissimo negli interventi che mi hanno anticipato, c'è una risposta negativa, come se ci si trovasse di fronte una cosa, insomma una struttura, un'identità, un'entità che prova a difendersi rispetto a delle aperture che a questo punto però sono diventate fondamentali, perché gli squilibri dei tempi che riguardano i singoli territori sono non soltanto vergognosi, ma sono anche insopportabili, perché poi sottendono a delle percentuali di PIL differente rispetto ai territori che vengono interessati. Quindi io quello che vi permetto di dirle è soltanto questo, quello di percepire questa commissione, la nostra volontà come una volontà esclusivamente migliorativa, l'incubo di carattere burocratico che sta dietro la vita quotidiana di tantissimi italiani, in questo momento rischia di essere veramente percepito nella motorizzazione come uno dei momenti più bui e difficili nell'affrontare la quotidianità di tutti i giorni. Quando in passato sappiamo ci sono state anche altre strutture con le quali noi ci relazionavamo quotidianamente, gli uffici anagrafi dei comuni, un tempo erano uno di quei momenti nel quale eri spaventato dal rinnovo di una carta d'identità o da un documento, invece adesso la situazione è differente perché si possono ricevere a casa, perché ci sono delle modalità diverse, messo anche in atto da amministrazioni che hanno superato determinate difficoltà. Quindi, ingegnere, da parte nostra c'è massima collaborazione, però fateci percepire nella realtà di fatti che anche da parte vostra ci sia una reale e vera e sincera apertura. Grazie.